In questo video risolverò un esercizio di matematica tratto da questo libro. Se qualcuno vuole trovarmi per chiedermi qualche esercizio, mi trovo facilmente con il link in descrizione. Allora, vogliamo risolvere questo esercizio. In particolare vogliamo eseguire la divisione tra questi due polinomi. Come bisogna fare? Allora, intanto vado a ricopiare il polinomio, quindi ho x al cubo meno 2x quadro. Poi però mi accorgo che purtroppo non è presente il termine di grado 1 e quindi devo metterlo ugualmente. E come faccio? Semplicemente metto 0x. Infatti poi 0 per x fa 0 e quindi in qualche modo va comunque a garantirmi la presenza del termine di grado 1, anche se io metto 0. Questo è molto utile per quello che dobbiamo fare adesso. Ora vedo di spiegarmi meglio. Qui intanto metto meno 1 e qui poi voglio fare la divisione con il termine x più 2. Ok. Ora devo cercare di annullare in qualche modo il primo termine. Beh, che termine mi servirà mai per arrivare a x al cubo? Naturalmente, se io ho a disposizione x, per arrivare ad x al cubo ho bisogno necessariamente di x al quadrato. E quindi qui metto x quadro. Ora che cosa succede? Devo effettuare la moltiplicazione di questo x quadro sia con questo termine sia con quest'altro termine e quindi avrò x al cubo più 2x al quadrato. Ora qui metto una linea e che cosa faccio? Vado a fare la sottrazione tra i due. In particolare, che cosa faccio? A quello che sta sopra, sottraggo quello che sta sotto. Quindi x al cubo meno x al cubo non rimane niente. Però quando vado a fare meno 2x quadro e poi di nuovo meno 2x quadro, ottengo meno 4x al quadrato. Ora qui interviene il mio 0 fittizio che ho messo prima, perché adesso bisogna abbassare il termine successivo, che in questo caso è dato da 0x. E ora di nuovo devo fare la stessa identica cosa. Devo andare a trovarmi un qualcosa che possa annullare il mio meno 4x al quadrato. Beh, iniziamo a ragionare. Sopra abbiamo una x e io voglio annullare un meno 4x al quadrato. Beh, come devo fare? Sicuramente io intanto devo metterci una x, perché sennò ad x quadro non arrivo. E poi però mi accorgo che ho bisogno anche di un 4, necessariamente. E quindi scrivo più 4. Anzi, meno 4x, perché voglio copiare esattamente quello che c'è sopra, come ho fatto prima. Prima ho voluto crearmi un x al cubo, adesso allo stesso modo voglio crearmi un meno 4x al quadrato. Quindi per arrivare a meno 4x quadro devo mettere necessariamente un meno 4x. Così facendo, che cosa succede? Che se faccio meno 4x, come prima devo fare la moltiplicazione con i due, meno 4x per x e arrivo a meno 4x quadro. E poi di nuovo meno 4x per 2 e a questo punto sto a meno 8x. Adesso come prima faccio la sottrazione, in particolare a quello che sta sopra, sottraggo quello che sta sotto. E quindi ottengo qui 0 e qui poi ho 0 meno meno 8, in questo modo diventa più 8, e quindi avrò più 8x. A questo punto, di nuovo, devo abbassare l'ultimo termine, che è meno 1, e a questo punto, come prima, devo inventarmi un qualcosa che possa andare ad annullare il mio 8x. In particolare, siccome io ho a disposizione sempre una sola x, da x per arrivare ad 8x devo necessariamente aggiungere un 8. Quindi qui metterò un 8, e quindi di nuovo, adesso devo fare la moltiplicazione di questo 8 con x e con 2. A questo punto, quindi, avrò 8x, e poi, per finire, 2 per 8, 16, quindi qui ho un più 16, linea, 8 meno 8, non rimane niente, e poi devo fare meno 1, meno 16, e quindi ottengo un meno 17. Cerchiamo adesso di confrontare i termini che abbiamo trovato con quello che c'è scritto nel risultato. Allora, il nostro polinomio originale era questo qui, x al cubo meno 2x quadro meno 1. E che cosa ho fatto? Beh, semplicemente bisogna prendere, appunto, ricapitolando quello stesso polinomio, riscriverlo, cercando di mettere zeri dove, diciamo, non compare il termine relativo al grado mancante. Quindi, in particolare, in questo caso, cosa non compariva? Non compariva il termine di grado 1. E quindi io metto 1, 0, per cercare di simulare la sua presenza. E quindi questo corrisponde a questo pezzettino qua. Questo qui era il polinomio che io volevo dividere. Mentre questo pezzettino qua è il termine per il quale io voglio dividere. E che cosa succede adesso? Che è il quoziente che si genera è dato da questo pezzettino qua. Che, infatti, è quello che otteniamo nel risultato. Ma non solo. Otteniamo anche un resto, perché la divisione non è perfetta. Otteniamo questo meno 17, che, infatti, è il resto. E quindi questa è tutta la divisione. Volendo, se non si dispone del risultato, che cosa si può fare? Si può fare una specie di prova del 9. Quindi, che cosa abbiamo dimostrato con questo esercizio? Abbiamo dimostrato che il mio polinomio originale, che è dato da x al cubo meno 2x al quadrato meno 1, in realtà è uguale a che cosa? A x più 2, che moltiplica il pezzo che abbiamo trovato, ossia x quadro meno 4, x più 8, e poi dobbiamo anche sommare quel resto, quindi meno 17. Quindi, beh, supponiamo di chiamare questo polinomio, ad esempio, f di x. E io sto dividendo il mio polinomio di grado 3 con un polinomio di grado 1, chiamiamolo g di x. E' ovvio che se dal grado 3 vado poi, in qualche modo, a togliere un grado 1 con una certa divisione, poi debba comparire per forza un qualcosa che abbia grado 2. E infatti questo polinomio q di x, che è il mio quoziente, ha grado 2. Infatti, 1 più 2 è 3 e torno al grado precedente. Solo che questa divisione, così come è fatta, non è perfetta. Infatti c'è un termine che è chiamato poi resto. E in questo caso non dipende da x. Beh, vediamo se effettivamente questa uguaglianza è vera. Adesso ci viene il dubbio sul fatto che questa uguaglianza possa essere magari falsa. perché io normalmente, se sto in una verifica, non dispongo del risultato. Vediamo se abbiamo fatto bene i nostri conti. Allora, rimoltiplico tutto e quindi ho x con questo, poi con questo e poi con questo. E quindi avrò x al cubo meno 4x quadro più 8x e adesso devo distribuire anche il 2. Quindi così, così e così. Dunque ho più 2x quadro meno 8x più 16 e poi devo aggiungere anche quel resto, meno 17. allora a questo punto è ovvio che 8x va via con 8x poi devo fare la somma quindi avrò x al cubo non lo devo sommare con niente mentre poi ho meno 4x quadro con più 2x quadro che fa un meno 2x quadro e infine ho 16 meno 17 che fa meno 1 e di conseguenza ho trovato proprio quello che volevo trovare che è questo polinomio originale. Quindi effettivamente la divisione è uscita bene. Noi in questo caso lo sapevamo già perché avevamo il risultato a disposizione però non sempre si ha il risultato a disposizione quindi questo è uno strumento di controllo un modo per controllare. Se il video ti è piaciuto metti like e seguimi sui vari social per aiutarmi a crescere se invece non ti è piaciuto metti dislike due volte. Alla prossima! Grazie a tutti!